Musica Incidente mortale nella tarda mattinata di oggi a Sassari in via Kennedy nel quartiere del Latte Dolce un 64enne ha perso il controllo della propria auto andando a schiantarsi contro un muro inutili soccorsi e un malore all'origine della tragedia Si è concluso positivamente il processo di validazione dell'offerta di F2I per l'acquisto del 72,5% delle quote della società di gestione dell'aeroporto di Alghero, piena soddisfazione da parte del management della regione Non potrà riaprire dopo le vacanze la scuola danneggiata all'incendio in via Nievo stanziati dall'aggiunta comunale ai 50.000 euro ma l'ultimo sopralluogo è evidenziato che i fondi non saranno sufficienti la nostra intervista all'assessore Ottavio Sanna TG di Canale 12, buonasera e ben trovati In apertura partiamo dalla cronaca, l'avete visto dagli stridi del nostro sommario Nella tarda mattinata di oggi un 64enne ha perso la vita in via Kennedy nel quartiere del Latte Dolce Dopo aver perso il controllo della propria auto è andato a schiantarsi contro il muro al centro della carreggiata Sentiamo la cronaca Incidente mortale nella tarda mattinata di oggi in via Kennedy nel quartiere di Latte Dolce Ha perso la vita Piero Angelo Pischedda, 64 anni, residente al Monte Rosello che non è riuscito a controllare la propria auto, una Renault Clio andando a sbattere violentemente contro il muretto di divaricazione della strada all'altezza dell'incrocio con via Colombo in direzione Santa Maria di Pisa Secondo i rilievi di vigili del fuoco e di polizia locale, Pischedda avrebbe avuto un malore o un colpo di sonno deviando bruscamente e andando così a schiantarsi contro il muro Il magistrato ha disposto l'autopsia Ed ora cambiamo argomento, parliamo dell'aeroporto di Alghero Formalizzato l'acquisto del 72,5% delle quote della società di gestione dell'aeroporto di Alghero da parte di F2I L'annuncio questa mattina in conferenza stampa al termine della riunione dei soci Sogeal Soddisfazione da parte dell'assessore dei trasporti Massimo Deiana e da parte del management della società Sentiamo E F2I, il titolare della quota maggioritaria della Sogeal Si è concluso infatti positivamente il processo di validazione dell'offerta di F2I per l'acquisto del 72,5% delle quote della società di gestione dell'aeroporto di Alghero Piena soddisfazione da parte del management per il processo positivo che ha portato prima alla ricollocazione sul mercato come soggetto appetibile della società e poi con l'esito che ha portato alla conclusione con il soggetto italiano più importante nella gestione di aeroporti Soddisfatto anche l'assessore dei trasporti Massimo Deiana La soddisfazione è doppia La soddisfazione è doppia anche perché stiamo mettendo in piedi un meccanismo che mette in sicurezza l'aeroporto di Alghero i suoi conti, la sua stabilità finanziaria, quindi la sua agibilità economica e commerciale L'aeroporto di Alghero certamente si potrà rilanciare e potrà occupare il posto che gli compete nel panorama aeroportuale sardo come asset fondamentale dell'economia del nord-ovest della Sardegna L'aeroporto ora può guardare al futuro con più fiducia e attivare tutte le procedure per incentivare il traffico e i vettori Abbiamo certamente fiducia che il rapporto con la regione Sardegna possa portare ad un rapporto virtuoso e quindi ci impegniamo insieme a loro a riportare Alghero a record di traffico per il futuro L'aeroporto è il principale operatore europeo e quindi è imprescindibile oggi è diventato una presenza in tutti gli aeroporti italiani ed europei e quindi credo che in Alghero sia importante averlo come uno dei principali interlocutori non l'unico ma uno dei principali interlocutori Il nuovo consiglio di amministrazione sarà costituito da Marco Fadda funzionario della regione per F2I Mauro Maia e Rosaria Calabrese alla direzione Mario Peralda sul quale i nuovi proprietari hanno pubblicamente espresso piena fiducia nel corso della conferenza stampa Nel pomeriggio attraverso una nota stampa il sindaco di Alghero Mario Bruno ha commentato la notizia dell'acquisto da parte di F2I Ho ricevuto una telefonata cordiale e cortese da parte dell'ottor Renato Ravanelli amministratore delegato di F2I col quale abbiamo concordato un primo incontro a breve per una condivisione delle strategie sullo scala aeroportuale di Alghero sul suo sviluppo al nuovo consiglio di amministrazione della Sogea gli auguri di buon lavoro che sia proficuo per il nostro aeroporto per lo sviluppo delle rotte e dei vettori indubbiamente la nuova proprietà gode di rapporti commerciali importanti con i principali vettori mondiali anche perché gestisce grandi sistemi aeroportuali italiani e ciò può e deve agevolare anche Alghero e la Sardegna in un'ottica di sviluppo del traffico aereo e dell'economia del territorio continuerà pertanto la gira in un'ottica di collaborazione e di vigilanza il comitato dei sindaci, imprese e organizzazioni sindacali costituito nel corso del 2016 continuerà a rappresentare le esigenze di questo territorio in stretto rapporto con la regione e con la proprietà così dunque il sindaco di Alghero Mario Bruno La società Versalis, la branca chimica dell'Ene ha chiuso il bienio 2015-2016 con utili per oltre 300 milioni di euro per il senatore del PD Silvio Lai i dati impongono un ripensamento delle strategie di sviluppo e un nuovo protocollo d'intesa con la regione per gli stabilimenti sardi Marco Sanna Il senatore Silvio Lai scommette sul futuro della chimica verde anche a Porto Torres riportando i risultati ottenuti nell'ultimo bienio dalla Versalis la costola chimica dell'Eni secondo quanto è stato dichiarato a New York dall'amministratore delegato della società Claudio Descalzi nel bienio 2015-2016 Versalis avrebbe in bilancio oltre 300 milioni di euro di utili una società che è totalmente autofinanziata e che anche in prospettiva sembra avere margini di crescita importanti commenta Silvio Lai secondo il quale le performance raggiunte dimostrano come quella della chimica verde sia la strada da percorrere per rendere profittevole un settore considerato negli anni scorsi arretrato e fonte di un'immagine negativa ora tocca al governo come azionista di Eni chiudere la pagina della messa in vendita del settore chimico di cui si è parlato per molto tempo e farne un settore strategico in via definitiva e tocca a Eni, prosegue Lai, fare veri investimenti in ricerca e sviluppo e non campi fotovoltaici nei territori che hanno consentito condividendo sacrifici questo risultato economico e finanziario il senatore del PD insiste dunque sulla possibilità di rivedere il protocollo di investimenti iniziale per il rilancio del settore dove dei 700 milioni di euro programmati ne sono stati spesi soltanto 200 dando nuove speranze ai lavoratori della chimica verde in Sardegna e non solo questi dati, osserva Silvio Lai, mettono anche il governo regionale di fronte a nuove responsabilità il presidente Pigliaru non può accettare un nuovo protocollo della chimica verde che non garantisca il rispetto degli investimenti previsti se non addirittura un rilancio guai se la regione non rispedesse al mittente un accordo al ribasso come quello di cui è girata la bozza nelle settimane scorse e a cui si è opposta l'assessore all'industria Maria Grazia Piras Ed ora invece parliamo della ATS dal 1 gennaio 2017 sarà attiva l'azienda per la tutela della salute la cosiddetta ASL Unica e sono stati nominati dal direttore generale Fulvio Moirano gli otto direttori delle aree socio-sanitarie sentiamo il direttore generale dell'ASL Unica sino al 31 dicembre direttore dell'ASL di Sassari Fulvio Moirano è nominato di intesa con il direttore sanitario Francesco Enriquens e quello amministrativo Stefano Lorusso i direttori delle otto aree socio-sanitarie locali a Sassari andrà Giuseppe Pintor precedentemente direttore dell'azienda ospedaliera universitaria prima della nomina dell'attuale Antonio D'Urso a Olbia Pierpaolo Pani a Nuoro Andrea Marra a Salonusei Pino Frau a Oristano Mariano Meloni a San Luri Antonio Onnis a Carbonia Maddalena Giuwa e a Cagliari Paolo Tecleme le nomine rientrano nella riorganizzazione del servizio sanitario regionale che prevede la nascita dell'azienda per la tutela della salute ATS appunto comunemente chiamata ASL Unica che diventerà operativa dal 1 gennaio 2017 ed è fissato per il prossimo 5 gennaio l'appello di fronte al Tribunale del riesame di Sassari del provvedimento di sequestro disposto dalla Procura della Repubblica dell'Azienda Agricola di Surigheddu di proprietà della Regione che chiede alla magistratura che siano accertati una volta per tutte i diritti dell'ente nei confronti degli allevatori che ne utilizzano i terreni Sentiamo E' stata fissata per giovedì 5 gennaio l'udienza di appello al Tribunale del riesame di Sassari riguardo al sequestro disposto dalla Procura della Repubblica dell'Azienda Agricola di Surigheddu e Mamuntanas Il provvedimento avrà stato notificato a nove degli allevatori che da anni operano nelle terre e nelle strutture di proprietà del manio regionale I sigilli sono stati apposti a lotti che si estendono per oltre 1200 ettari A metà dicembre 50 uomini del Corpo Forestale coordinati dai carabinieri della Compagnia di Alghero erano intervenuti nell'Azienda Agricola della Regione apponendo poi i sigilli e notificando gli avvisi di garanzia agli allevatori Tutto era partito da una denuncia della Regione secondo la quale l'occupazione dei terreni era da considerare abusiva I reatti contestati vanno dall'invasione di terreni ed edifici al pascolo abusivo e all'introduzione e all'abbandono di animali in fondi altrui per farli pascolare La Regione si è rivolta anche alla giustizia civile a cui ha chiesto che venga accertata una volta per tutte la proprietà delle terre Su questo punto il Tribunale di Sassari si esprimerà nel mese di marzo Non potrà riaprire dopo le vacanze la scuola dell'infanzia di Via Nievo a Sassari gravemente danneggiata da un incendio doloso Oggi dopo un nuovo sopralluogo l'assessore Ottavio Sanna ha affermato che non basteranno i fondi appena stanziati per il recupero dei locali Sentiamo Sembravano meno disastrose le condizioni della scuola dell'infanzia danneggiata da un incendio doloso in Via Nievo a Sassari Quando le maestre hanno aperto gli armadi hanno visto anni di fatica oscurati dalla fuligine disegni e lavoretti dei bambini mandati al macero una biblioteca di libri neri Peggio ancora l'ultimo sopralluogo ha evidenziato danni importanti agli impianti elettrici e altre situazioni critiche che impediranno di rispettare le prime previsioni tecniche per il recupero della scuola Ieri la Giunta in riunione d'emergenza ha stanziato 50.000 euro per l'intervento immediato e l'impresa ha già iniziato i primi lavori l'assessore ai lavori pubblici del PDS è Ottavio Sanna Da un sopralluogo ho fatto stamattina penso che queste risorse non bastino perché purtroppo è stato danneggiato anche tutto l'impianto elettrico e quindi è anche buona parte delle porte e soprattutto bisognerà intervenire anche nella nuova sia oltre la bonifica anche in tutte le tetteggiature ed è questo è un danno grave alla città tutta a tutti i nostri cittadini ai genitori ai bambini che stanno in questa scuola ci siamo adoperati anche con l'assessorato alla politica giovanile e un'ipotesi di trasferimento in una scuola qui a fianco dove già stiamo facendo dei lavori con il progetto Scola oltre al personale scolastico anche diversi genitori degli alunni hanno dato una mano per il recupero e il trasloco dei materiali nella scuola che offrirà temporaneamente i locali per le classi anch'esse in ristrutturazione nella vicina via Manzoni qui i ragazzi somali e ospiti dei locali parrocchiali si sono messi a disposizione per scaricare i furgoni dedicati al trasloco restiamo a Sassari il centro-destra in consiglio comunale boccia senza appello la giunta del sindaco Nicola Sanna lunga la lista delle incompiute e poi promesse non mantenute e obiettivi di mandato mancati questa mattina conferenza stampa di fine anno di Forza Italia Sassari progetto comune ci racconta tutto Luca Foddai conferenza stampa di fine anno a Palazzo Ducale dei gruppi consigliari del centro-destra Manuel Aliveise Giancarlo Carta di Forza Italia insieme a Rosanna Arro di Sassari progetto comune mettono in evidenza limite e criticità dell'azione amministrativa della giunta di Nicola Sanna promesse non mantenute e obiettivi di mandato mancati secondo l'opposizione e poi una lunga lista campus universitario città metropolitana centro intermodale nuovo matatoio ma anche centro storico Buddi Buddi Platamona ex cinemastra noi riteniamo che la città stia vivendo un momento assolutamente drammatico che è assolutamente mal gestito e mal affrontato ecco da questa amministrazione esprimiamo tutta la nostra preoccupazione per tutti gli obiettivi mancati soprattutto per l'incapacità di questa amministrazione di riuscire a risolvere anche le cose più semplici da parte della giunta di centro-sinistra manca una vera programmazione la città vive un momento socialmente molto complicato è una città che deve ancora trovare soluzioni che brancola non abbiamo una vera programmazione che possa risolvere i tanti problemi per il momento abbiamo una promessa se promessa la possiamo chiamare di un indebitamento importante con dei mutui che il comune va stipulando siamo in attesa di vedere qualche risultato una giunta che dopo due anni e mezzo ancora non ha iniziato a governare ribadisce il centro-destra è importante sottolineare che i gruppi di opposizione che in questo momento stanno urlando la loro disperazione al governo di Nicola Sanna da oggi in poi lavoreranno per invece coagulare all'interno di un contenitore politico tutte quelle persone di buona volontà per bene oneste che vogliono aiutare e aiutarci a governare questa città questo è il nostro obiettivo saranno presentati a breve in giunta e poi discussi in consiglio comunale il piano di utilizzo dei litorali e il nuovo piano particolareggiato del centro storico abbiamo mantenuto l'impegno di presentare i due strumenti per la fine dell'anno dice l'assessore all'urbanistica Gianni Carbini importanti le ricadute economiche ed occupazionali il servizio sono state presentate dall'assessore alla pianificazione urbanistica Gianni Carbini le proposte di deliberazione sul piano di utilizzo dei litorali e sul piano particolareggiato del centro storico i due strumenti attuativi del PUC il piano urbanistico comunale saranno a breve discussi dalla giunta e dalla commissione urbanistica per poi approdare in consiglio abbiamo mantenuto gli impegni ricorda l'assessore Carbini il PUL piano di utilizzo dei litorali disciplina la fruizione con finalità turistico-ricreative delle aree ed emaniali marittime compresa la regolamentazione dell'accessibilità viaria e pedonale coerentemente con i principi assunti dalla regione se gli ambiti costieri individuati Platamona Fiume Santo Rena Maiore La Pedraia Argentiera e Portoferro il piano particolareggiato del centro storico invece è il risultato di un lavoro di armonizzazione e riordino dei vecchi piani particolareggiati adottati e approvati prima del PUC adeguato al piano paesaggistico regionale è stata effettuata una nuova analisi del degrado e sono stati identificati i cambiamenti intervenuti dal punto di vista fisico a seguito delle operazioni edilizie già effettuate il piano conclude Carbini prevede rispetto al passato un più ampio ventaglio di interventi edilizi quali ad esempio la demolizione la ricostruzione la ristrutturazione conservativa e in alcuni casi operazioni di ampliamento e di sopraelevazione in un'ottica di maggiore accessibilità e fruizione e ora ci fermiamo un istante per il break pubblicitario torniamo tra pochissimo con la pagina sportiva in primo piano Dinamo e Unicef e poi andiamo anche a Macomère restate con noi e torniamo in studio per la pagina sportiva a cura di Ico Ribichesu partiamo dalla Dinamo che è partner ufficiale dell'Unicef grande la soddisfazione del sudalizio sassarese che ieri sera alla Palasserra di Migna ha suggellato questo gemellaggio con una partita tra i giganti capitanati dalla presidente Sardara la Dinamo Lab che schierava la special guest JP Cucciari e il direttore generale Unicef Italia Paolo Rozzera gara surreale e divertente che per magia si è conclusa sul salomonico 110 pari il ricavato sarà interamente versato nelle casse dell'organismo internazionale sentiamo Dinamo for Unicef un segnale importante che è partito ieri sera al Palasserra di Migna l'organismo internazionale ha scelto la Dinamo come apripista di una collaborazione che aiuterà i bambini in difficoltà di ogni razza colore o religione il direttore generale ha giocato sul parquet sassarese insieme alla madrina della manifestazione JP Cucciari al presidente Dinamo Stefano Sardara ai giganti decisamente poco incisivi ieri e ai ragazzi della Dinamo Lab una gara che si è chiusa sul 110 pari per miracoli operati dagli ufficiali di campo l'Ideca Carter Ebeling la gara del tiro a tre ha visto la vittoria di Josh Carter opposto a Claudio Spano e nei liberi ha trionfato JP Cucciari ai danni di Stefano Sardara Canale 12 offrirà la gara Dinamo for Unicef il primo dell'anno nell'intento di aiutare l'Unicef nella raccolta d'aiuti per i scopi umanitari che l'hanno sempre accompagnata Ed ora a Macomere dove si sta svolgendo il memorial dedicato a Marilu Tilocca Canale 12 sta seguendo l'evento sentiamo però tutti i dettagli nel servizio E' in corso di svolgimento il primo trofeo città di Macomere sotto l'egida della FIP Sardegna un triangolare che vede impegnati Astro Cagliari la scuola addestramento palacanestro Alghero ed il Cus Cagliari e i nostri microfoni una delle organizzatrici Abbiamo voluto organizzare questo memorial perché ci tenevamo a ricordare la figura di Marilu che ha rappresentato il basket macomerese degli anni 80 e ci sembrava opportuno all'inizio del decimo anno dalla sua scomparsa organizzare una grande manifestazione per una grande atleta Un movimento cestistico quello del femminile in Sardegna che dà anche dei buoni risultati E' chiaro che paghiamo molto la nostra insularità però tanti talenti Abbiamo cercato di portare avanti l'attività creando una manifestazione che portasse a Macomer basket buono Stasera le finali e dopo le premiazioni il brindisi augurale per un 2017 che possa vedere il basket in rosa riprendere vigore E questo era l'ultimo servizio non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora io mi fermo qui vi ricordo che potrete rivedere questa edizione del nostro telegiornale sul sito canale12.it e l'intera nostra programmazione dei vostri smartphone o tablet attraverso wifi tv.tv L'informazione di Canale 12 torna domani mattina alle ore 7 come di consueto non dimenticate la striscia informativa delle 14.30 ora spazio la notizia nazionale curata dall'agenzia di stampa ADN Kronos prima di salutarvi vi ricordo l'appuntamento con il telegiornale per lunedì 2 gennaio alle ore 19.45 come di consueto e ovviamente prima di chiudere il più cordiale buonasera ma soprattutto gli auguri da parte di tutta la redazione di un buon fine d'anno e un felice inizio 2017 grazie dell'attenzione arrivederci buona serata sale la tensione tra USA e Russia Siria scontri dopo il cessato e il fuoco continua l'allarme meningite caso sospetto a Napoli espulsioni incrociate e tensioni altissime tra Washington e Mosca dopo la decisione di Barack Obama di replicare gli hackeraggi russi che hanno interferito nelle presidenziali americane con l'espulsione di 35 funzionari di Mosca Putin starebbe valutando la contromossa con l'espulsione di 35 diplomatici USA scontri in Siria poco più di due ore dopo l'entrata in vigore del cessato il fuoco vengono segnalati dall'osservatorio siriano per i diritti umani i ribelli avrebbero violato la tregua e conquistato una posizione nella provincia di Ama un uomo di 46 anni è morto a Napoli dopo aver avuto la febbre alta si sospetta un altro caso di meningite sarebbe il secondo dopo il decesso di un 18enne avvenuto nel pomeriggio di mercoledì a Castellammare di Stabbia decessi che si sommano a quelli del bimbo di 22 mesi morto all'ospedale Meyer di Firenze da quanto risulta il bambino non era stato vaccinato il primo gennaio gran parte dei musei e siti archeologici statali saranno eccezionalmente aperti e lo saranno gratuitamente lo annuncia il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini l'apertura dei musei il primo gennaio spiega il Mibact è un evento eccezionale dovuto alla coincidenza di un giorno di tradizionale chiusura con la prima domenica gratuita del mese a cui il personale del ministero ha deciso di aderire questa era la nostra ultima notizia arrivederci e Grazie per la visione!